Due tornanti brutti, vedete, ecco due tornanti in cima, speriamo che nessuno si ferma, comunque l'autobus è andato su, ma dovremmo fare, dai! Sì, vedete, vedete! Sì, vedete, spazza neve, non c'è la strada, noi andiamo, comunque le storie vale più risposto, no? No, non c'è una corriere, io credo che non c'è la corriere, guardate che mi dà le corriere per questa neve, dai, ormai sono a Foscagno, perciò il più è fatto, dai! Allora, ultima salita, là c'è la dogana, l'albe, la dogana, poi si procede. Pintosa! Eccola qua! Ora è tutta a discesa. Bene! Alpo, alpo! Grazie! Grazie a tutti.